da quanto tempo state insieme? 9, quasi 9 9 che? anni? giustamente, 9 anni, wow 24 anni c'hai tu? 9 anni, 15 anni tenivo? troppo bello, hai va a piacere? sì? bello che bellissimo, bravo, bravo, geloso? se guarda su io non fa male nessuno, frate allora io voglio dire una cosa ragazzi questo è amore vero, perché oggi viviamo in un mondo con mille distrazioni oggi si sposano nessuno, chiunque non c'è più voglia di sposarsi perché io faccio una bella vita torno a torno, viaggio esco, vado a ballare una sera esco con una, una sera esco con un'altra io non lo condivido, anche perché secondo me bisogna avere tanto rispetto delle donne questa è una delle cose più importanti che nella vita bisogna avere è uno dei principi più importanti ci sono uomini che dicono io tengo uno vizio, io l'ho e femmina ed è la cosa più orrenda che si può sentire dalla bocca di un uomo perché mica la donna è un vizio la donna è una cosa importante la donna è quella che fa girare il mondo noi senza il femmina non fossimo niente diciamoci la verità è così quindi sono contento di fare questa sera questa promessa di matrimonio perché voi promettete di fare una cosa bellissima promettete di avere un grande amore quello che già vivete tutti i giorni con i vostri figli penso che quella è la cosa più bella quindi vi dedico un momento molto bello io vi metto qua dietro come se non ci sto e voi non vi staccate di ballare questa cosa bella tutti e due abbracciate fino a quando io non finisco di cantare va bene? fatelo, ok? va bene? vi faccio questa cosa qua e poi dopo leggiamo la lettera che è lupacchiotto t'ha fatta a te